Financiere pronto in pedana con 40 kg, Giacomone Belen, Repubblica di San Marino. Financiere pronto in pedana con 40 kg, Giacomone Belen con 40 kg. Financiere pronto in pedana con 40 kg, Giacomone Belen, Repubblica di San Marino. Prova Valida. Financiere pronto in pedana con 40 kg, Giacomone Belen, Repubblica di San Marino. Prima prova di slancio Giacomone Belen Repubblica e San Marino Prima prova di slancio Prima prova di slancio Prima prova di slancio Prima prova di slancio Prima prova di slancio